Noi, Marco Adriano, sostituto del Gran Cancelliere, per incarico rimessoci dal decano dei notai e vorediesi, dottor Geruigi Cignetti, diamo atto che il cittadino generale, fronte al pubblico festante, con lo sventolio delle bandiere, al suono di pifferi e tamburi, proclama Abba per la parrocchia di San Lorenzo, Chiara Clelia Castello. Grazie. Grazie. Grazie.